È stata una programmazione pluriannale, chiaramente il coronamento del riconoscimento di capitale italiana arrivato a marzo 2022 ci ha proiettato già da subito in una dimensione più ampia, triannale di lavoro, di lavoro 22-24 almeno, ma anche con l'obiettivo di sedimentare anche dei risultati turistici e di riconoscibilità della città, della quantità culturale non solo, anche oltre 25 e in questo va anche la rete di rapporti che stiamo realizzando e costruendo con le altre capitali italiane ed europee passate e presenti in futuro in modo che ognuno possa fare anche la piattaforma di racconto del programma degli altri, e anche di visibilità rispetto ai milioni di visitatori che saranno nell'insieme delle capitali, quindi per poter raccontarsi insieme ed è un lavoro che è nato particolarmente da Pesaro. Nello specifico noi avevamo già iniziato una programmazione diciamo almeno triannale che puntasse al 24 e che desse già il senso di un cambio di passo, di un cambio di marcia, l'arrivo di Ulysses Fest, l'arrivo con la Lonnie Planet, con un chiaro messaggio diciamo anche turistico ma anche mondiale, l'arrivo del Caterraduno con chiaramente una visibilità per la città che non è di quei tre giorni ma è di tutto l'anno in cui si prepara l'edizione e abbiamo sempre costruito e raccontato questa strategia appunto come una strategia che guardasse almeno a tutto il 2024. Cosa cambia effettivamente nel 2023? Che dopo i mesi del 2022 spesi a costruire un po' la struttura della capitale italiana, ora si inizia a fare sul serio. Sarà un lavoro spalmato su tutta la provincia, oltre che per molti aspetti su tutta la regione e quindi anche per questo abbiamo annunciato agli ultimi stati generali del turismo la volontà di fare questi 24 per il 2024. Quindi ogni 24 ore del mese sarà impegnato in un luogo simbolico diverso della provincia, vorremmo partire da Ulysses Montana e Catria e Nerone, quindi diversamente da Fontavellana o da Cantiano, Cagli, insomma stiamo cercando di capire anche in base alla raggiungibilità di Fontavellana, di cui vorremmo partire anche simbolicamente, ma raccontare l'avvicinamento territorio per territorio alla capitale 2024, incontrando gli stakeholder, incontrando quelli che saranno gli artisti coinvolti, incontrando le associazioni, incontrando ovviamente le amministrazioni coinvolte, incontrando anche gli imprenditori che dovranno essere una parte fondamentale dell'accrescimento del potenziale del programma, oltre a quelli che sono i finanziamenti pubblici. E quindi insomma sarà un anno di mobilitazione, gennaio sarà un mese già decisivo, poi mano a mano che andremo avanti, anche assieme alla provincia, ho chiesto un aiuto particolare anche al neorie eletto presidente Paolini da questo punto di vista, sarà un grande progetto che non solo ci aiuterà a fare un grande 2024, ma anche dal punto di vista comunicativo, dei percorsi, dei tragitti, del trasporto pubblico, dei servizi, del collegamento tra le vallate, del collegamento tra gli enti locali stessi, se ben speso potrà essere un grosso patrimonio che renderà la nostra provincia non solo più appetibile, ma anche più forte e più interconnessa anche per gli anni a venire.